Io sono Nicolò, sono qui con Simone e oggi vi parleremo dei CTF attacco e difesa. Innanzitutto, qualcuno di voi ne ha già sentito parlare? Su le mani. Ok, qualcuno di voi ci ha già preso parte? Ok. Allora, innanzitutto parliamo del primo problema che abbiamo avuto con questa presentazione, che è stato quello di trovare un titolo, perché sembravano tutti troppo banali. Quindi, quindi, eravamo indecisi tra un titolo serio e un titolo un po' più clickbait. E tra i titoli proponibili c'erano questi che potete vedere. Alcuni sono molto umoristici, forse, però tutti hanno una realtà sotto, secondo me. Alcuni di questi sono, per esempio, The Connection Between CTF Attacco e Difesa e Sex, che vabbè. Allora, questa è la squadra della Cafoscari, che ha preso parte a una competizione che c'è stata qui in Italia, tra le varie università, si chiama Cyber Challenge. La competizione finale di questo progetto è stata un CTF Attacco e Difesa tenuto a Roma, con le migliori quattro persone di ogni università italiana, otto università. Allora, questi siamo noi durante il CTF. Lo spazio era davvero poco, quella che potete vedere dietro è una classifica e noi siamo lì intenti a giocare. Però, una cosa non troppo ovvia è che cosa siano questi CTF Attacco e Difesa. Io ricordo la prima volta che ne ho sentito parlare, da Marco, tra l'altro, e dopo mezz'ora che ne parlava io dovevo ancora capire che cosa fossero, perché non ne avevo mai sentito, ma in mezzo alle persone in cui ero. No, vuol dire che l'avevo dato per scontato, solo che, insomma, sembrava che tutti stessero dietro, tutti dicevano io partecipo a questi CTF, io boh. Dopo un po' ho capito che cosa erano. Allora, innanzitutto ci sono due tipi di CTF. Quelli più tradizionali e facili da organizzare, probabilmente, che sono i Geopardy, che consistono in un set di problemi da risolvere, in gruppo oppure singoli, dipende dal CTF. E poi gli attacco e difesa, che come possono mostrare questi meme, sono molto più avvincenti, difficili e totalmente diversi, che consistono in tutt'altra cosa da semplicemente risolvere dei problemi. Praticamente l'architettura generale è questa, c'è un check system centrale, possiamo vederlo come un server, e i diversi team, ogni team ha i propri portatili e una propria macchina virtuale in genere. Le macchine virtuali eseguono diversi servizi, possiamo vederli come siti internet, oppure servizi che controllano centrali nucleari o cose di questo tipo. La cosa che accomuna tutti i servizi è che hanno delle vulnerabilità. I servizi sono messi su dagli organizzatori. Quindi gli organizzatori, insomma, mettono volontariamente, a volte non volontariamente, delle vulnerabilità in questi servizi. Tramite queste vulnerabilità, i team possono rubarsi dei segreti tra loro. Qui si può vedere che ogni team ha delle coccinelle che rappresentano i bug, e delle bandierine che rappresentano i loro segreti da proteggere. È proprio come il gioco ruba bandiera, bisogna rubare le bandiere altrui per vincere. Per rubare le bandiere altrui bisogna appunto sfruttare vulnerabilità che sono presenti nel sito, o se non nel sito, nel servizio più in generale. Ecco, sembra una cosa facile, però è davvero un casino, perché ci si ritrova con dei servizi vulnerabili, però non si sanno le vulnerabilità presenti, ma si sa che gli altri team in qualche modo le stanno sfruttando. E la situazione di stress che si verifica è davvero una cosa impressionante, perché sei sotto attacco, ma non sai come difenderti, la pressione aumenta, ci sono tutti che ti chiedono cose, e quindi questo meme rappresenta davvero bene durante un CTF attacco-difesa la situazione. Ci sono gli organizzatori che sono lì tutti tranquilli, che a volte si mettono anche a ridere, perché possono vedere il traffico di tutti, e vedere i nostri exploit, cosa fanno, e magari gli errori che hanno. E noi che siamo lì dentro, che cerchiamo di uscire, che cerchiamo di spegnere il fuoco. Ecco, il punteggio in questi tipi di CTF dipende da vari aspetti. Principalmente, la cosa principale è proprio la lavability del servizio, cioè se il servizio è up o down. Se il servizio è giù, si perdono davvero tantissimi punti. Se il servizio è giù, è come dire che andate su Wikipedia e vi da 4.04, che non c'è nulla. E questo determina tantissimo. Poi, altri due fattori determinanti sono le flag rubate, cioè questi segreti, queste bandierine che hanno i diversi servizi, e le flag che sono state rubate al team di cui si fa parte. Ecco, quando il CTF inizia e dopo le modifiche che sono state fatte, qualche servizio è giù, la situazione è molto più drammatica di quella rappresentata da questo meme, perché davvero non si sa cosa fare, perché in genere la prima ora di ogni CTF è adibita a una manutenzione senza che la macchina virtuale sia connessa con altre macchine. E quindi si fanno modifiche di tutti i tipi, si provano a fixare dei bug che sono presunti tali, e a volte succede, come è successo anche a noi, di fixarli nel modo sbagliato, in modo tale da buttare giù tutto il servizio. Ma succede in generale a tutti. È molto molto semplice. Ok, ora parliamo un attimo dei tool che si utilizzano per questo tipo di competizioni, specialmente dei tool che abbiamo creato noi ad hoc per riuscire a sopravvivere in quella giungla. Allora, ripetiamo un attimo come è l'architettura, abbiamo i vari team, ogni team, una volta che trova una vulnerabilità sui propri servizi, che in genere sono uguali a tutti i team, cerca di scrivere un exploit, cioè cerca di sfruttarla tramite uno script che in automatico vada, faccia quel che deve fare e tiri fuori la flag. Per far questo serve un programma che lo faccia in automatico. È impensabile una volta che si hanno 100 team di mettere una persona a eseguire l'exploit verso ogni IP. E quindi ciò che abbiamo fatto noi che si fa in genere è costruire uno script di attacco in cui una volta specificati tutti i target esegue lo stesso exploit lo stesso script in questo caso in Python verso tutti gli altri. Ruba le flag, una volta rubate le aggiunge a un database e un altro servizio ancora, il submission client, possiamo chiamarlo, le submit al server che dà il punteggio. Una volta che il server riceve la flag sa di chi è e ti aggiunge il punteggio. Ecco, abbiamo avuto qualche problema con questo attacker all'inizio e questa è un'ottima immagine di me che provo a risolvere i problemi durante il CTF. Passiamo al secondo tool che è quello principale che ci ha permesso di raggiungere il terzo posto a Roma. Senza di questo non saremmo riusciti a fare molto. che si chiama Flowware. Si tratta di un'interfaccia grafica in questo caso, cioè quella qua mostrata, con sotto diverse funzionalità principalmente per analizzare il traffico e ricostruire i flussi in modo tale da accorgersi molto velocemente di come gli altri team ci attaccassero e a nostra volta rubare gli exploit in modo molto semplice. Cosa succedeva? Una volta che un team eseguiva uno script contro le nostre macchine e noi potevamo analizzare il traffico vedere esattamente le richieste che venivano fatte e da queste richieste dire bello non so come funziona il servizio però posso replicare lo stesso attacco verso gli altri senza proprio sapere nulla del servizio. Ecco in questa piccola demo in questa GIF possiamo vedere a destra un flusso al centro una lista di flussi selezionabili sopra c'è il selettore di servizio che servizio in questo caso è Maze che era uno dei tanti era un sito web si poteva impostare un flusso come preferito e a destra vedere bene le comunicazioni tra client e server e c'era anche la funzione ex view che mostrava le cose in questo modo qui quindi con i binari quando si hanno caratteri non stampabili era molto molto comoda e le flag erano evidenziate in rosso. Ecco un esempio di flusso molto molto banale si aveva con un servizio che offriva un'interfaccia di questo tipo come se fosse un'interfaccia da terminale banale tramite insomma tramite la rete e qui possiamo vedere proprio che cosa dice il server e il client in questo caso non so se si riesce a leggere ma viene fatta una domanda in quale menu si vuole entrare eccetera eccetera e qui si può vedere proprio il flag server che inserisce dentro una flag perché le flag vengono inserite dal server centrale e poi gli altri le devono rubare in questo caso tramite questo flusso viene inserita una flag che è quella sotto evidenziata in rosso invece una semplicissima richiesta HTTP come quella che si può fare a un sito quando andate su Google o su Wikipedia o su qualunque altro sito viene vista così da Flower banalmente e c'era anche un rendering HTML probabilmente è vulnerabile però abbiamo fatto molto sanitize con varie librerie ma insomma sicuramente è vulnerabile e sotto come è fatto Flower il frontend è fatto con React.js abbiamo il backend fatto con Flask in Python davvero minimale che mette solamente praticamente comunicazione MongoDB con con il frontend praticamente poi usiamo Libnitz per ricostruire i flussi gli stream TCP e poi RSync per scaricare i singoli pick up per chi non sapesse i pick up sono i pacchetti le registrazioni del traffico di rete e metterli dentro la macchina che esegue Flower è stata una scelta un po' zardata creare questo tool perché essenzialmente prima di iniziarlo io avevo davvero pochissima esperienza in Python React.js non l'avevo mai usato avevo solo usato cose abbastanza simili Flask non l'avevo mai usato TCP dump neanche cioè non l'avevo usato praticamente nulla prima di iniziare e quindi ho dovuto imparare tutto in due settimane perché abbiamo avuto due settimane da quando sapevamo che eravamo passati per questa competizione finale a quando effettivamente l'abbiamo fatta quindi la nostra strategia dopo aver fatto questo tool è stato di aspettare una delle nostre strategie ovviamente anche lì guardavamo i servizi è stata di aspettare di ricevere attacchi e di farli ritorcere contro chi ce li ha spediti ed è stata una cosa bellissima perché la prima volta il primo attacco che abbiamo che siamo riusciti a rubare davvero si trattava di un servizio che non avevamo neanche aperto e ecco dopo essere riusciti a rubare il primo exploit ci sentivamo bene o male così e non sto esagerando durante le otto ore di competizione siamo riusciti a far su 45 giga di dati che sono davvero tanti avevo solamente 5 giga in più nel hard disk dopo di che andavamo fuori limite e adesso passiamo alla seconda parte di questa presentazione in cui mostriamo un esempio di vulnerabilità cioè diversi esempi di vulnerabilità il primo in particolare non era nel ctf finale ma era nella gara precedente che era un ctf geopardy cioè come abbiamo detto prima con diversi problemi da risolvere diciamo o diversi siti con vulnerabilità da sfruttare per raggiungere un'unica flag finale ecco in questo sito c'era un'attenticazione basata sulla posizione geografica del dispositivo adesso come tutti sapete il browser può accedere alla vostra posizione se gli date il permesso questo sito in particolare prendeva la posizione e dava solamente due tipi di risposte sei troppo lontano dal punto che non si sa quale sia oppure sei n chilometri lontano dal punto target ecco vista questa interfaccia all'inizio ciò che si può pensare è che se siamo nel punto target possiamo entrare ed effettivamente così era ecco un modo banale per risolverlo è provare tutti i punti sulla terra però era abbastanza lungo anche se è quello che durante la competizione ho fatto un modo più intelligente per risolverlo era usare la triangolazione cioè una volta che troviamo tre punti e la distanza tra questi tre punti e il nostro target banalmente l'intersezione tra i tre cerchi che vediamo è il punto disegnato e questo era il modo diciamo giusto per risolverlo si può notare come ci fosse quell'infinito sott'acqua vicino al target che è molto strano e simpatico ok ora passo la parola a Simone che vi parla di un altro servizio che c'era il cdf finale attacco difesa a Roma molto molto interessante si il servizio di cui parli di cui parla di cui parlerò io è star chaser cos'è star chaser il miglior modo che ho trovato per per descrivere questo servizio è una notte stellata perché era proprio questo c'era un cielo dove voi potete esprimere i vostri desideri potete mettere un titolo e una descrizione il titolo è pubblico e l'altro è privato cioè potete in teoria leggerlo solo voi ok passiamo un po' a un paio di bug che erano che c'erano in questo servizio il primo era un un comando sql che veniva in pratica inviato dal client al server e il server eseguiva così com'è potete vedere sopra che viene inviato e sotto che viene eseguito questo qui non va bene perché il client può personalizzare questo questo comando e scaricare essenzialmente le descrizioni anche di altri utenti cosa che non dovrebbe fare ed è proprio qua che c'erano quelle flag che servivano per ottenere il punteggio come risolverlo se questo è quello che faceva prima cioè prendeva dal client il comando e lo eseguiva quello che dobbiamo fare noi è semplicemente scriverglielo direttamente nel server perché tanto non c'è motivo che sia diverso un altro bug un xss cos'è? noi scriviamo un comando in javascript all'interno delle form e come possiamo vedere viene eseguito questo non va bene perché noi possiamo mettere del codice che poi il browser di altri utenti eseguirà e noi possiamo in questo modo rubargli delle informazioni che appunto a noi servono in particolare delle flag che appunto ci fanno prendere punti come si può risolvere una mitigazione cioè un qualcosa che in qualche modo limita o rende più complicato sfruttare questa vulnerabilità è impostare i cookie in particolare quello di sessione a only http cioè renderlo in pratica impossibile leggerlo con il con il javascript è una mitigazione perché comunque si può aggirare e ottenere le flag in qualche altro modo il modo secondo me più semplice per risolvere questo è fare un escape fare un escape del testo che dovrebbe visualizzare appunto al posto di quei caratteri dell'html e metterne altri ultimo bug quello che mi è piaciuto di più sinceramente cosa fa questo esegue un comando e mette come password lo fa in un modo un po' strano per ripulire la password prima di metterla nel comando sql cioè in pratica toglie tutto ciò che non sono lettere o numeri apparentemente potrebbe sembrare sicuro anche se non è il modo che si usa di solito perché di fatto se non può mettere solo lettere o numeri può pensare che sia sicuro e invece no perché c'è una cosa che non vi ho detto questo servizio utilizzava SQLite ebbene sì perché SQLite è abbastanza simpatico da questo punto di vista perché questo comando qui cioè noi mettendo come password la scritta password questo sarebbe il comando che andrebbe ad eseguire cioè noi ci aspetteremo che se il campo password è uguale alla scritta password cosa che non lo è quasi mai perché insomma in quel caso lì nessuna password era appunto password noi ci aspetteremo che che sia falso e quindi che non trovi nessun utente che non corrisponda mai invece c'è una bellissima feature di SQLite che in pratica è come scrivere questo cioè lui password ok password lo vede come il campo password e quindi sostituisce alla scritta password la password dell'utente quindi è come scrivere la frase sotto quando password è uguale a password sempre quindi in pratica noi scrivendo password come password potevamo entrare nel profilo di qualsiasi utente simpaticissimo come si può risolvere semplicemente mettendo al posto delle doppie virgolette una singola virgoletta sì è semplice però se uno non si aspetta che effettivamente faccia questo SQLite potrebbe non non capire perché fa questo infatti SQLite è l'unico che fa una cosa del genere sinceramente che io conosco almeno ok una piccola cosa adesso abbiamo visto dal punto di vista di noi che attacchiamo gli altri team vediamo anche un po' e se non abbiamo voglia di cercare bug vi ricordate flower quello di prima semplicissimo sotto abbiamo il leak di una nostra chiave qualche riga sopra il come ha fatto in 5 secondi abbiamo già rubato un attacco grazie se avete domande c'era su un'immagine e non non l'avete specificato quindi ve lo chiedo normalmente per guardare il traffico di rete uno utilizza tool come Wireshark o comunque prende i file di cattura li apre con Wireshark guarda tutti i dati ok ce li ho perché farsi un tool ad hoc che cosa cambia che differenza c'è ok il problema che abbiamo avuto perché all'inizio abbiamo testato Wireshark che era la scelta più ovvia è che per fare la stessa cosa cioè passare da un flusso a un altro ci volevano una cosa come 5 click e tanto tempo mentre in flower abbiamo implementato anche il kbinding di vim quindi utilizzando semplicemente j e k potevamo andare da un flow all'altro davvero in modo veloce poi un'altra cosa era l'evidenziazione delle flag anche nella lista cioè in ogni flusso appariva rosso se all'interno aveva una flag quindi potevamo subito capire in quali flussi ci stavano rubando qualcosa e quali altri flussi fossero solamente di test poi potevamo dividere le cose per servizi in modo semplice e fare query senza sapere la sintassi di Wireshark che per carità non è niente di difficile però quando si è lì sotto pressione è tanta roba poter avere un'interfaccia grafica in cui selezionare le cose in modo banale principalmente per questo e comunque ci sono anche altre soluzioni fatte apposta ma nessuna che si adattava esattamente allo scenario in cui eravamo avendo un tool così scritto ad hoc che faceva esattamente ciò che ci serviva è stato determinante secondo me e nessun altro tool ci avrebbe permesso di fare questo perché ci sono tantissime altre soluzioni a che open source usate in giro però non esattamente per questi scopi ecco altre domande ok grazie a tutti grazie a tutti